Dove scappi? Cia Gioia, ciao! Oggi compleanno di Zio Luigi. Voglio mandare a lui su Facebook. Sì, li ha mandati. Ha detto Zio sì, li hai mandati. Cia Gioia che stai facendo? Cia Gioia che stai facendo? Rispondimi su Facebook e sul computer. Ma Giovanni, noi stiamo sul giardino. Giovanni sta alla casa. Vuoi dire a Billy? Mi stiamo so bella. Mi stiamo so bella, guarda Billy. Che bella testa che ti tende, che bei capelli, guarda Billy. Billy saluta. Fai ciao. Sperta. Ciao. Ciao. Saluta Zio Gioia. Ciao Zio Gioia. Risponditi su Facebook. Risponditi su Facebook. Ciao.